in corso nei media tradizionali e le opzioni con uno squarcio anche su quello che potrebbe accadere in futuro. Io volevo cominciare con una domanda un po' provocatoria e poi vorrei lasciare scegliere ai panelist qui presenti a chi vuol rispondere per primo. Io penso che non sia un crepuscolo dei media, penso che in realtà i media non siano stati mai bene quanto oggi, penso che ci sia un'esplosione dei media, ci sia una moltiplicazione dei media, penso che i giornali siano in crisi ma mai sia un tempo migliore per fare giornalisti come oggi perché in realtà c'è bisogno di buon giornalismo, di bravi giornalisti ed è per questo che dirigo il Master in giornalismo, non lo farei mai, non andrei mai a deprimere i miei studenti dicendogli siete nell'era del crepuscolo dei media perché penso che allora vorrebbero fare altro. Quindi la mia domanda prima iniziale, anche se sospetto di sapere già la risposta ma la faccio per la vostra curiosità e chiedere all'autore Vittorio Meloni ma anche a Stefano Sales e a Daniele Manca la scelta di questo titolo, cosa ne pensate? Chiederei innanzitutto ai due giornalisti e poi a Vittorio Meloni che ci spiegherà perché so che c'è una spiegazione, quindi chiedo alla mia sinistra Stefano Sales cosa pensi quando hai letto questo titolo, il crepuscolo dei media? Ti ha sorpreso o ti è sembrato nella natura delle cose? L'avresti fatto uguale anche tu? Ma intanto grazie, buonasera a tutti forse a lettura avvenuta l'avrei prima di tutto una fotografia perfetta e strapiena di dati che è la cosa più importante secondo me di questo libro un conto sono i ragionamenti filosofici un conto è basare il ragionamento sui dati che vengono via via forniti sempre molto aggiornati e poi vengono interpretati e poi descrivere questo paesaggio per poi lasciare intendere che ci sia una possibilità di sviluppo forse dopo un crepuscolo seguirà una nuova alba questo non lo so se è così all'inizio del libro l'autore però ha scelto di mettere una citazione molto azzeccata secondo me è una citazione da Leneides come io ho fatto studi letterari mi ha colpito che un libro che parlava di crepuscolo dei media e soprattutto di mondo digitale che è destinato a cambiare ha già cambiato, ha già sovvertito i valori, metto tra virgolette questa parola ai quali siamo abituati a pensare quando pensiamo al giornalismo partisse da una citazione classica così importante e effettivamente la citazione dice chiaramente è cambiato un mondo non lasciare che quel mondo torni ad essere evocato cioè Troia è finita lasciamola al suo destino questo è un avviatico per la lettura del libro che indirizza dentro uno specifico sentiero che è quello di dirci guardate probabilmente lo scenario al quale stiamo già assistendo da alcuni anni ci descrive una situazione che è molto cambiata è sotto gli occhi di tutti non lo so se come tu hai detto prima siamo in un'epoca di moltiplicazione dei media di esplosione dei media certamente siamo in un momento in cui il modo in cui si è pensato fino in questo momento ai media e Vittorio Meloni li intercetta tutti i giornali, la stampa, la tv, la radio e il mondo della pubblicità che questo modello di business in qualche modo ha sostenuto per due secoli ha interpretato o ha subito il cambiamento siccome io poi sono metto le mani avanti una persona che non è 4.0 non sono neanche 2.0 forse sono proprio 0 perché sono nonostante i miei 45 anni sono nato e vissuto con la carta stampata e adoro ancora adesso la carta stampata tutto questo mondo dei media e soprattutto dei social media mi ha sempre generato un minimo di sospetto e addirittura un forte sospetto siccome poi adesso mi occupo per, diciamo così, dovere di pubblicare dei commenti degli editoriali quindi di avere a che fare con dei testi su carta stampata che sono prodotti da persone oltremodo competenti e che non semplificano quasi mai e anzi noi diciamo che è benvenuta non dico la complicazione ma la descrizione esatta di qualcosa che è complesso dicendo è complesso non è riducibile a 140 caratteri perché il mondo non è solamente i 140 caratteri credo che non ho le carte in regola per comprendere appieno i cambiamenti che stanno avvenendo e sono avvenuti ma che comunque li si possa guardare con il benvenuto di una cosa che cambia ma con il non farsi travolgere completamente da qualcosa che dobbiamo in qualche modo difendere che è la qualità parola che secondo me ancora oggi ha un valore molto pregnante soprattutto nel mondo dei media e che credo che grazie a questa parola questo crepuscolo forse possa essere superato grazie Stefano l'altro giorno qui al salone è stato premiato l'inserto anzi inserto il foglio che è settimanale che è stato creato alla stampa che si chiama origami che è tutto di carta e punto appunto sulla qualità l'approfondimento la lentezza non i 140 caratteri si è parlato proprio di quello del grande valore della carta quindi siamo sei in sintonia con quel tipo di editoria e qui al salone devo dire che in tanti altri eventi si è parlato tantissimo del fatto che la carta in realtà ha un grandissimo valore e è emerso quanto in realtà la carta possa avere una seconda vita anche nei dati classi nei dati sull'editoria dei libri perché si è visto che l'ebook non ha decollato poi però magari riusciremo anche a parlare del perché Arthur Sulzberger che era l'editore del New York Times già ben dieci anni fa aveva dichiarato che secondo lui l'ultima copia del New York Times è stata pubblicata di carta nel 2043 il libro l'ultima copia del New York Times lo scrisse il nostro vice direttore al di allora che era Vittorio Sabadin è un libro del 2007 quindi sono passati dieci anni è stato diciamo precursore tra chi in Italia ha parlato del futuro e del modello di business dei giornali e il fatto che i giornali di carta potessero essere molto in crisi e rischiassero di non arrivare molto lontano Rupert Mardoch allora disse il suo slogan era cambiare o morire in realtà Mardoch è ancora vivo e dopo dieci anni siamo ancora tutti qua quindi insomma la carta c'è certamente c'è ma è in crisi pazzesca i dati che riporta tra l'altro il bello di questo libro è che è un libro è quasi un instant book per quanto è aggiornato con i dati cioè proprio fresco per cui i dati che vedete qui dentro sono dati tutti molto ancora attuali anche se nel momento in cui parliamo ci sono un sacco di novità continue per cui è difficile secondo me scrivere prevedere quello che succede nei media con i dati perché ovviamente tutto cambia con grande rapidità e ci sono sempre aggiornamenti da fare se verrebbe voglia di dire l'anno prossimo magari puoi fare un aggiornamento Vittoria e fare un appendice con le novità che saranno succedendo ogni anno si potrebbe fare un aggiornamento perché qui c'è uno scenario che però fa immaginare anche il futuro che sembra anche molto molto fosco per tutti noi che lavoriamo nei giornali che sono di carta più che online cioè è la carta che ancora ci porta a casa i ricavi quindi ci paga lo stipendio Daniele Manca la tua visione del titolo partiamo dal titolo perché poi man mano andiamo avanti a parlare del libro grazie allora Crepuscolo dei media nel libro troverete il perché cioè non è tanto da discutere quando negli Stati Uniti la stampa si prende dal 2007 al 2014 è passata da 50 miliardi di pubblicità a 20 miliardi e l'online ha contribuito soltanto con 1,7 miliardi dati del libro è evidente che il crepuscolo non solo c'è ma è abbastanza preoccupante ed è molto preoccupante per un motivo molto semplice che secondo me gli editori non si sono fatti delle domande a che servono i giornali a chi li dobbiamo vendere è giusto che i giornali vengano letti soltanto da una media età attorno ai 50 anni se siamo buoni 55 se siamo invece realistici questo vale per tutti quanti i giornali se vai sul desktop ti scendi ti abbassi un pochettino e arrivi forse a 45 40 se vai su uno smartphone ti abbassi un altro po' ma dal desktop in giù morire se spendono un euro per essere informati quindi la sostenibilità economica non c'è quindi il crepuscolo dei media è scontato allora secondo me la valenza del libro di Vittorio è nelle domande che si pone perché facciamo un piccolo passettino in avanti indietro va noi un momentino su internet internet è una tecnologia non è un medium prima cosa i medium i media ci passano sopra internet utilizzano il protocollo di comunicazione quindi mai confonderlo l'ho letto su internet è come dire l'ho letto su un pezzo di ferro che non è la stessa cosa invece è importantissimo chi vi sta dicendo quella cosa là chi vi sta dicendo quella cosa là normalmente è un medium e quindi una volta era un giornale adesso sono persone sono influencer e via dicendo quindi questo è il contesto in cui ci stiamo muovendo se il contesto è questo che cosa è accaduto è accaduta anche un'altra cosa che internet non è a semplicemente come dire ha modificato la nostra vita di tutti quanti i giorni ha modificato anche le strutture sociali anzi le ha spezzate normalmente le comunità si formavano dove? nei luoghi fisici c'era una comunità di luoghi fisici e all'interno di questi luoghi fisici altre comunità quella degli operai quella dei medici quella dei politici e via dicendo avevano modo di incontrarsi su che cosa? su delle piattaforme di comunicazione che erano i giornali le famose gazzette nel 1700 si andava in una caffetteria e ci si scambiava opinioni tra i diversi strati della popolazione allora quello che sta succedendo oggi è che internet sta producendo una moltiplicazione di comunità che non riescono più a entrare tra di loro in comunicazione ognuno se ne sta nel proprio ricinto di giuventini milanisti interisti comunisti fascisti via dicendo amici e non riescono più a entrare in comunicazione non entrando più in comunicazione tra di loro si fa fatica nella formazione dell'opinione pubblica cioè i giornali sono sempre serviti a questo a offrire degli argomenti affinché qualcuno si facesse le persone si facessero delle opinioni e potesse formarsi un'opinione pubblica generale allora il rischio vero ed è un rischio che gli editori stanno correndo non so se quanto scientificamente non è tanto quello di scomparire perché questo nella forma attuale è chiaro che scompariranno nella forma attuale non ci saranno più perché se a gennaio noi abbiamo una caduta delle vendite in edicola del 12% delle copie dei quotidiani è inutile che ci stiamo tanto a pensare certo possiamo consolarci con l'online con lo smartphone col giornalismo che sta su altre piattaforme ma quel giornalismo lì non viene percepito ancora come valore e cioè nessuno di noi in questa sala è disposto a pagare un euro per essere informato dallo smartphone o da un tablet e quindi è insostenibile economicamente e quindi questo crepuscolo c'è ma le domande che si fa io purtroppo l'ho dovuto leggere qua sopra perché non c'avevo mi pesavo portarmi dietro tanti libri ma la domanda che si fa alla posizione 1378 scusate se ve lo dico così non è una pagina alla posizione 1300 di questo caspita di strumentino qui è chi racconterà la realtà domani chi formerà l'opinione pubblica e quanto conteranno i fatti perché il discorso che vi facevo all'inizio delle comunità che stanno ognuna per conto proprio io ho preso gli appunti su un articolo di Elisabeth Kolberg che ci ha vinto il Pulitzer che dice why facts don't change our mind e cioè perché i fatti non cambiano quello che noi pensiamo mentre i giornali servivano esattamente a questo ecco le domande che dobbiamo porci è posto che il crepuscolo dei media attuali sia scontato la domanda vera è come si formerà l'opinione pubblica come noi continueremo a conversare tra di noi e tra diverse comunità e in una poi domanda finale come la democrazia reggerà reggerà al crepuscolo dei media e questa è la vera domanda che dobbiamo porci perché al momento non sembra che la democrazia stia reggendo a questo impatto a questo continuo flusso di comunicazioni avanti e indietro che è stato garantito da internet ha garantito questo dialogo però non riesce a garantire il fatto che gli eventi che i fatti possono avere una come dire un peso nella formazione della nostra opinione mentre invece il peso ce l'hanno le nostre opinioni preesistenti che ci siamo fatti in un altro modo ma questa è un'altra storia grazie Daniele hai toccato tanti punti sei andato oltre la domanda non hai fatto non ti sei trattenuto no ma perché poi infatti dobbiamo assolutamente entrare nel merito e noi giornalisti che siamo anche un po' responsabili perché io penso che ci sia anche una responsabilità non soltanto il fatto che sia arrivato internet che mette in crisi i giornali perché è vero che siamo passati dall'era delle carrozze a cavallo all'era dei treni dall'era delle candele di cera all'era dell'elettricità e quindi quando ci sono questi cambiamenti industriali epocali è ovvio che la rivoluzione è totale anche nell'informazione come è stata nei trasporti e nell'illuminazione però è anche vero che i giornali hanno contribuito al loro crepuscolo e io trovo che il crepuscolo dei media per quanto riguarda il crepuscolo dei vecchi media perché io forse l'avevi chiamato così però adesso passo la parola all'autore per chiedergli il suo intento è vero che il crepuscolo dei vecchi media è dovuto molto anche al fatto che mentre cambiava tutto intorno i media noi siamo rimasti uguali e non siamo stati capaci di adattarci e forse questa autocritica dobbiamo imparare a farla Vittorio Meloni ha il vantaggio di mantenere una lucidità e di mantenere un distacco perché non è dalla parte della barricata in crisi cioè lui si occupa di comunicazione e la comunicazione non è in crisi ma non è giornalista in un giornale in crisi come noi tre quindi passo la parola a Vittorio chiedendogli di avere pietà di noi ma di darci la sua visione sì grazie buonasera a tutti ma partendo dal titolo che mi sembra il motivo per introdurre la conversazione Crepuscolo dei media intanto perché Crepuscolo è diciamo il momento della giornata in cui la luce si fa fioca e la luce che si fa più debole e incerta è un tremolio è la luce di quel grande faro che è stata la libera informazione dal momento in cui ha messo piede in questa parte del mondo perché in altre parti del mondo non ha mai messo piede è stata l'espressione di un sistema politico e sociale che ha prodotto le monarchie costituzionali prima il parlamentarismo e la democrazia diciamo pur criticata in tante forme che conosciamo oggi per dar vita a questo tipo di società era necessario avere giornali prima e poi i mezzi tra l'altro il secondo in ordine di tempo già è entrato in conflitto con i primi che non dobbiamo dimenticare che le radio sono state il grande strumento di propaganda dei regimi totalitari del novecento e alla televisione terzo in ordine di successione si attribuiscono molti mali tra i quali quello di plasmare un'identità diciamo così delle persone che la guardano che cozza con alcuni diciamo dei riferimenti culturali civili morali che tutti noi riteniamo fondamentali per la vita civile poi il crepuscolo può essere qualcosa di più diciamo così importante può assomigliare a un collasso anzi il crepuscolo degli dei tanto per fare un riferimento alto visto che Salis ha giustamente colto la mia citazione di Giunone Giunone che parla lì e Giunone che ha perso la battaglia contro i troiani che alla fine di questa battaglia dovendo ammettere la sua sconfitta chiede allo sposo fratello quantomeno di seppellire la loro civiltà non potendo rimediare alla loro vittoria sul campo ma c'è un altro crepuscolo famoso che è il crepuscolo degli dei che è un collasso il Valhalla crolla su se stesso però nasce una nuova coppia di divinità che costruiranno poi il nuovo avvenire ecco questa nuova coppia nel mio libro non c'è perché diciamo si fa fatica a individuarla però non c'è dubbio che siamo in uno spartiacque determinato dallo sviluppo della tecnologia e dall'ingresso in campo di una quantità di protagonisti sconosciuti che sono il popolo diciamoci le cose come stanno la stampa l'informazione non è mai stata per il popolo è stata sempre per l'elite i suoi numeri parlano chiaro io cito il Times canone della stampa di tutti i tempi che ispirò il Corriere della Sera a tal punto che Albertini andò là a vedere come era fatta la sede della direzione della redazione del Times e la replicò uguale in via Solferino stesso mobile stesso numero di posti chi vuole può andare a vedere il monumento alla storia del giornalismo quando era già il Times quindi diciamo nei primi anni dell'ottocento vendeva 5.000 copie ed era il giornale più letto della capitale del più grande impero mai apparso sulla scena del mondo eppure quelle 5.000 copie condizionavano l'opinione pubblica più influente di allora e sarebbero cresciute sarebbero forse diventate 50.000 100.000 500.000 ma sempre poche in rapporto a una popolazione così grande il che vuol dire che il suo scopo non era quello di informare il popolo nella sua vastità ma di condizionare l'elite perché poi attraverso questo condizionamento e attraverso altri agenti che noi abbiamo conosciuto e che sono anch'essi in profonda crisi e protagonisti della crisi dei media partiti sindacati associazioni avrebbero trasmesso e semplificandola questa informazione ci ricordiamo tutti noi che diciamo non siamo più ragazzi delle cosiddette cinghe di trasmissione elettorale non so la col diretti mi viene fatto di dire che negli anni 60 si riteneva essere in grado era ritenuto essere in grado di sposare milioni di voti a favore di questo o quel partito ecco oggi la col diretti non c'è più nel senso la col diretti c'è ancora ma non svolge questo ruolo che in fondo è un ruolo di trasmissione dell'informazione poi nel libro io mi occupo in realtà di un'industria non di una professione non ho la pretesa di spiegare ai giornalisti come si fa giornalismo io mi occupo di spiegare così il senso di un'accelerazione di una crisi industriale che investe tutti i comparti diciamo che noi chiamiamo dell'industria dei media perché la televisione scusate non è investita da un fenomeno meno rilevante io cito anche qui dei dati essendo parte da tempo di queste conventicole ADS Auditel che sono a contatto con la misurazione dei dati in 10 anni quindi non in 20 in 30 in 50 il numero di persone che nel cosiddetto peak time guarda la televisione è precipitato di 20 punti percentuali se prendiamo la fascia di popolazione tra i 18 e 34 anni di 55 punti percentuali che vuol dire che più di un giovane su due ha smesso di avere rapporti smesso cioè non ce li ha non ha rapporti episodici non ce li ha proprio quindi anche quella industria che fino ad oggi noi consideravamo quella che assorbiva la potenza originaria del mondo mediatico è in crisi d'altra parte sempre per fare diciamo una citazione alta che però come diceva Platone tutto ciò che è grande è instabile ed è così tutto ciò che raggiunge una certa soglia dimensionale deve fare i conti con la fragilità della sua costruzione che in questo caso è determinata dall'entrata in scena di un nuovo protagonista che oggi minaccia quella costruzione che però i cui contenuti sono paradosso la cosa più appetibile di ciò che la minaccia cioè l'informazione è il contenuto che viaggia più intensamente sulle reti che minacciano la sopravvivenza dell'antico mondo dell'informazione quindi secondo me noi dovremmo partire da lì dal fatto che di questo avremo sempre bisogno almeno nelle società libere e aperte per vedere se si potrà rimediare in che forma al problema che molto chiaramente enucleava prima Daniele Manca cioè la crisi o la frantumazione delle opinioni pubbliche grazie allora questo fa ben sperare quando dice appunto che quando si arriva all'enorme dimensione vuol dire che qualcosa cambierà mi fa sperare bene perché Facebook ha quasi due miliardi di utenti non so quanti di voi siano su Facebook perché vedo età contrastanti però facciamo una prova vorrei sapere quanti di voi sono su Facebook beh comunque ma chiedere quanti non ci sono su Facebook allora alzo la mano su voi dai vediamo quanti non sono su Facebook interessante anche quello è ben divisa questa audience ed è assolutamente non rappresentativa del mondo perché in realtà Facebook sta diventando praticamente in Italia noi abbiamo tutti almeno un telefonino chi non ha un telefonino vediamo chi non ha un telefonino giusto per capire una persona signora lei è un'eccezione alla regola ecco ma quindi abbiamo tutti il telefonino abbiamo tutti adesso veniamo a intervistarla ecco allora la signora ha un vecchio cellulare che non è collesso a internet mentre io davo per scontato appunto ovviamente quando parliamo di telefonino oramai parliamo di smartphone cioè sono di fatto dei computer connessi a internet e quindi a cui si accede a tutti i nuovi media a tutti i social a tutte le app che permettono di comunicare e di informare quindi di fare anche da tramite per tutti i vecchi media perché qua c'è io ho Raiplay ho Sky ho Netflix quindi vedo i film guardo il TG faccio tutto col telefonino e col telefonino mi conlego a leggere tutti i giornali e quindi non è che siccome non ho il giornale di carta non ho l'accesso ai giornali l'elite ha l'accesso il vantaggio è l'accesso ce l'hanno molte più persone quindi sta diventando abbiamo massificato la possibilità di informarci molto di più di prima già lo era perché i mass media già esistevano da tempo McLuhan lo conosciamo tutti ma insomma quando si diceva a un tempo l'ha detto la televisione l'ha detto il giornale l'ha detto la radio adesso si dice l'ha detto Facebook in realtà l'hanno detto i giornali su Facebook perché sono tutti su Facebook quindi non è che su Facebook c'è qualcun altro ci sono tutte le persone tutti un miliardo e novecento milioni di persone e in più con tutte le organizzazioni mediatiche che hanno deciso di esserci perché nessun giornale può permettersi di non esserci persino origami che è di carta ha una pagina Facebook perché oramai tutti hanno bisogno di farsi pubblicità e di far sapere che esistono su Facebook Facebook non è solo una tecnologia si sta discutendo molto per capire che cos'è c'è un grandissimo dibattito e volevo chiedere ai qui presenti ma a Daniele Manca soprattutto che dice che appunto internet è solo una tecnologia non è media non fa parte dei media Facebook è un'altra cosa perché è una piattaforma che utilizza internet per esistere ma è una piattaforma in realtà che contiene ben di più di solo una tecnologia tanto che c'è un grande dibattito fra giornalisti editori e addirittura si cerca di considerare Facebook responsabile dei contenuti tutta la battaglia contro le cosiddette fake news contro la post verità tutta la battaglia contro l'odio online la si sta facendo cercando l'Europa ha multato Facebook Whatsapp stanno dando multe proprio perché li consideriamo responsabili dei contenuti che passano non editati non passati non censurati non rivisti e spesso ci sono cose illegali e chiediamo quindi a Facebook di fare da guardia al portone all'ingresso un po' come facciamo nei giornali è naturale scegliere selezionare i contenuti i giornali hanno scelto di non conversare con i propri lettori i propri utenti sui loro siti internet negli anni scorsi dieci anni fa tutti i giornali avevano i commenti dei lettori su internet in fondo gli articoli hanno rinunciato hanno deciso di spostarli su Facebook perché era difficile gestirli perché richiedeva un aumento di personale per fare tutta quella moderazione e quella conversazione con gli utenti e quindi gli utenti lettori dei giornali sono tutti su Facebook e noi abbiamo deciso di mettere i nostri contenuti su Facebook finché ci siamo resi conto che forse così perdevamo il mercato perché poi giustamente come dice Vittorio Meloni il suo libro è sull'industria dei media che sta perdendo quota in maniera drammatica e rapidissima e uno dei motivi per cui sta perdendo quota è che gli editori non si sono resi conto di avere rinunciato al loro bene più prezioso che sono i lettori e i lettori se sono su Facebook bisogna andare su Facebook ma forse non bisogna relegare tutti i contenuti se ci fossimo attrezzati a mantenere la conversazione con i nostri lettori sulle nostre piattaforme se fossimo stati abbastanza tecnologici noi per fare piattaforme alternative più belle di Facebook forse non saremmo qui a parlare del crepuscolo dei media il problema è che non sono stati capaci perché i giornalisti i giornali e gli editori hanno fatto un mestiere e hanno ancora in mente il mestiere precedente alla rivoluzione digitale e non sono stati abbastanza veloci a trasformarsi pensate che vent'anni fa non c'era tutto questo quindi il tempo è stato rapidissimo le cose sono andate molto veloci mentre l'industria discografica questo tipo di rivoluzione è avvenuta prima che da noi con i libri prima che con i libri nell'industria musicale l'industria discografica è stata la prima a subire lo scossone del digitale quando è arrivata la Apple con iTunes con l'App Store con le app e iTunes per scaricare la musica da internet le case discografiche hanno gridato alla vergogna pirateria hanno fatto causa agli utenti perché scaricavano la musica e in realtà la Apple ha guadagnato tantissimi soldi fino a quando le case discografiche si sono rese conto che se si attrezzavano anche loro a farlo in quel modo lì a venderla anziché lasciarsi piratare riuscivano a guadagnare e adesso hanno recuperato però hanno rischiato grosso hanno denunciato Cali per dieci anni fa c'era tutto il discorso delle case discografiche adesso si parla dei media io penso e sono fiduciosa io penso che i giornali e gli editori che si attrezzano e che stanno reagendo perché molti giornali stanno reagendo sperimentando e cercando di resistere ci saranno dei giornali che resisteranno e se la caveranno benissimo con i nuovi media quindi vorrei spezzare una lancia a favore dell'ottimismo e di un futuro erosio per i giornali e per i media penso che non ci sia più non ci sia più quel mondo solo elitario penso che ci saranno tante ci sarà una varietà pazzesca una frammentazione pazzesca e questo rientra nel primo capitolo tra l'altro perché Vittorio Meloni ha fatto questo libro in quattro capitoli molto semplici molto lineari e vi consiglio di leggerlo perché è un bel riassunto il primo capitolo parla proprio all'inizio sostiene la scomparsa dei lettori anche lì perché dice i lettori dai vecchi media sono scomparsi però in realtà poi spiega la frammentazione dell'audience perché l'audience si è allargata molto frammentata su tutta una plettora di altri supporti digitali che non sono soltanto i giornali cartacei o la televisione è vero i giovani non guardano più la televisione l'età media di chi guarda il TG1 è 60 anni e anche l'età media di chi legge la stampa è 60 anni quindi il giornale di carta è fatto per noi anziani e non è fatto per i giovani i ragazzi non so quanti di voi abbiano figli ma i ragazzi leggono però non è che non leggono sono sempre connessi tanto che gli devi dire metti giù il telefono che è ora di pranzo o di cena smetti di leggere sono sempre lì che leggono quindi non è che non leggono hanno un altro modo di consumare però di leggere e di informarsi e quindi dobbiamo prendere atto di questo di questo grande cambiamento passo però la parola a voi scusatemi sto tenendo io un comizio mentre in realtà però rientra nel libro perché il libro parla proprio di questo vorrei avere le vostre opinioni quindi rifacciamo un giro di tavolo su questo tema Stefano se vuoi raccontarci cosa ne pensi rapidamente poi lo chiedo anche a Daniele e poi ripasso la parola all'autore va bene allora io sarò breve intanto rivendico il diritto di non essere su Facebook come scelta legittima che mi appartiene e che ho compiuto con piena coscienza soprattutto perché credo che ci sta in qualche modo ingannando se anche ha fregato due miliardi di persone e io non non penso che debba essere valido per tutti la sioma di essere su Facebook secondo il signor Zuckerberg ha detto chiaramente quest'anno anzi alla fine dell'anno scorso che la sua è una media company e che quindi in qualche modo veicola dei contenuti peccato che non li produce nella stragrande maggioranza dei casi e poi ci arriviamo ma vengono utilizzati da Facebook i veicoli della produzione degli altri media tra l'altro non vorrei confondere il libro di Vittorio Meloni non è sui giornali in crisi ma è sui media nel loro complesso il che fa ragionare su come sia cambiata la percezione di quello che è il nostro rapporto con chi emette delle informazioni diciamo così che è vero sono state per un lungo tempo per una elite di persone ma è sempre stato così i libri sono per una elite di persone la cultura purtroppo non è mai stata popolare quello che è successo è che a un certo punto diciamo così si è avuta l'illusione di poter accedere a dei contenuti in maniera gratuita io credo che l'industria dei biscotti sarebbe crollata se a un certo punto i produttori di biscotti avessero deciso di regalare i biscotti cioè quello che loro producono i giornali diciamo così tradizionali a un certo punto hanno deciso di regalare i propri contenuti agli utenti non facendo pagare quindi l'informazione a un certo punto è diventata gratuita se uno va ancora adesso sui siti della gran parte dei giornali sono gratuiti questo ha generato un'illusione di poter avere l'informazione in maniera chiara immediata e non pagata e facebook è corresponsabile di questa roba qua e google uguale e io se fossi un editore da tempo avrei chiesto che mi pagassero per tutto quello che produco perché vi do una cattiva notizia produrre dell'informazione costa produrre dell'informazione di qualità costa molto perché i giornalisti per quanto siano una categoria sputtanata non sono proprio dei cretini c'è gente che tu hai detto nei giornali è naturale che si selezioni le notizie purtroppo non c'è una simmetria tra una produzione di informazioni di qualità come bene o male si fa nei giornali e il la produzione di contenuti generata dagli utenti che può reggere per un mattino ma dopo non funziona e e chiudo è un esempio che Vittorio Meloni fa benissimo nel libro la stragrande maggioranza dei nostri ragazzi che stanno lì con le mani sullo smartphone in molti casi non è in grado di distinguere una pubblicità da un contenuto informativo figuriamoci come si formerà un'opinione pubblica informata quando si è a malapena in grado di capire che cosa si sta leggendo e chi ha emesso quell'informazione questo è un pericolo serio per le democrazie che si formerà nei prossimi anni Daniele allora diciamo la fine che faranno gli editori sono un po' fatti degli editori lasciatemelo dire la fine che faranno i giornalisti sono fatti dei giornalisti la fine che faremo invece noi come cittadini mi preoccupa un po' di più che cosa distingue noi da altre specie il fatto che noi siamo una specie che è abituata ad avanzare attraverso la collaborazione tra di noi cioè noi collaboriamo molto tra di noi faccio un esempio un po' così un po' basso basso voi sapete come funziona uno sciacquone immagino di sì spingete il bottone e lo sciacquone funziona se vi facessi poi la domanda successiva come funziona no ma dimmi esattamente come funziona lo sciacquone probabilmente non sapremmo rispondere questo è uno dei test che fanno spesso nelle università di scienze cognitive per dimostrare che in realtà noi ci fidiamo molto degli altri cioè qualcuno ci ha detto che se spingiamo un bottone succede qualcosa a quella roba bianca lì e allora andiamo avanti la cosa che mi preoccupa è che in questo momento sta prevalendo molto la collaborazione ed è per questo che secondo me è interessante leggere il libro di Vittorio perché Vittorio Meloni in questo libro che cosa fa ci mette giù dei dati e fa finta di parlare dei dati in realtà quello che ci pone è una domanda ci pone delle domande perché questo perché quello che sta accadendo in questi ultimi anni è che noi non ci poniamo più domande cioè ci fidiamo perché siccome siamo una specie collaborativa ci fidiamo degli altri succede dovunque guardate noi ci fidiamo quando accendiamo un computer tant'è vero che tutti quanti ci dicono tutti i giorni cambia la tua password chi la cambia tutti quanti ci troviamo sempre tutti la stessa nostra password se no ce la dimentichiamo allora secondo me al di là della fine che farà che faranno i media alla fine non sappiamo se gli editori sopravviveranno però la cosa importante che esce fuori dal libro è fatevi delle domande e se qualcuno vi dice qualcosa dovunque ve lo dica che sia Corriere della Sera che sia la Stampa la Repubblica qualsiasi cosa che però chiunque vi dica delle cose che però anche su Facebook su Twitter per strada fatevi la domanda di chi ve lo sta dicendo perché perché è vero che noi collaboriamo e ci fidiamo molto e per questo grazie a questo che stiamo evolvendo in maniera rapidissima però è altrettanto vero che in questo fidarsi un po' troppo sta venendo almeno la nostra razionalità e quindi sta venendo meno la nostra capacità di essere comunità di essere cittadini di essere un paese allora i giornali servono a quello probabilmente lo stanno facendo male adesso se no non sarebbero in crisi la tv serve a quello probabilmente lo sta facendo male però quello che mi interessa qui dire a voi come cittadino non come vice direttore del Corriere della Sera perché tanto non dipenderà probabilmente da me se non per un piccolo pezzettino non dipenderà dalle persone che sono sedute su questo tavolo l'evoluzione dei media ma andiamo alla radice di quello che c'è scritto nel libro e cioè passo passo seguiamo quello che è successo ai media ma per farci delle domande su noi stessi perché quello che stiamo rischiando lo ripeto un'altra volta è di non farci la domanda e cioè di non chiederci chi ci sta dicendo qualcosa se è autorevole se ha un interesse se lo dice per qualche motivo ma invece diamo per scontato che quella cosa che ci sta dicendo sia vera a volte non è vera e in questo senso c'è quella frammentazione di cui parlava Vittorio e di cui scrive in questo in questo libro qua scusate Daniele Manca è molto digitale e ha l'ebook del libro io vorrei che Vittorio Melone ci desse il messaggio conclusivo del suo libro e a tutti noi e ci desse la possibilità poi magari se qualcuno di voi ha domande di alzare la mano abbiamo ancora dieci minuti volevo solo segnalare una cosa però perché abbiamo parlato della fiducia e della qualità c'è un problema nei media tradizionali che la gente che usa internet abbiamo una concorrenza noi giornali noi media tradizionali che viene da tantissime altre piattaforme oramai tutti si collegano a tutto in tutte le lingue per cui si possono verificare le cose che scriviamo e noi dobbiamo conquistarci la fiducia dei nostri lettori non è più una cosa che dall'alto al basso si dà alle persone ma è una cosa che dobbiamo tutti i giorni quando scriviamo se scriviamo cavolate io lo so perché come garante dei lettori ricevo le lettere dei lettori non so se nella rubrica che tu curi nella pagina dei commenti ci sono le lettere dei lettori ma nei giornali le lettere dei lettori sono sempre state relegate a uno spazio molto piccolo quando noi facevamo un errore facciamo un errore nei giornali l'errata corrige è sempre una cosa microscopica i cittadini si arrabbiano e dicono insomma vi vorrei l'errata corrige allo stesso posto con lo stesso spazio che viene dato nei giornali della notizia sbagliata quindi questi errori che noi facciamo diciamo e il modo in cui li abbiamo corretti male nel passato adesso ci sta è un errore che ci sta tormentando perché abbiamo perso la fiducia dalle statistiche che emergono che sono state fatte sui giornali sulla crisi della fiducia dei lettori nei giornali la statistica principale è proprio questa cioè i lettori non si fidano più non è che non si fidano più quindi non è vero che si fidano di tutto quel che leggono magari si fidano delle notizie false che trovano in giro assolutamente non certificate dal marchio di un giornale e poi però non si fidano del proprio giornale quindi c'è questa perdita di fiducia con cui noi dobbiamo fare i conti quindi è un problema con cui vi lascio perché penso che ognuno di voi abbia avuto esperienze nei giornali in cui avete letto insomma alla fine della fiera la stampa è soprannominata la busiarda da prima che esistesse internet un motivo ci sarà quindi non vi siete mai veramente fidati fino in fondo dei giornali ed è giusto così un sano scetticismo i cittadini devono mantenerlo mantenetelo su internet per tutto cioè lo scetticismo deve essere come dire il modo in cui affrontiamo il mondo delle notizie e dell'informazione ed è uno scetticismo per cui con cui affrontiamo uno spot pubblicitario come una notizia scritta su un giornale autorevole o ovunque su Facebook e il problema è vero che siamo quando diceva Daniele Manca parlava delle bolle e delle casse di risonanza in cui siamo intrappolati dentro Facebook o dentro i social media perché ognuno vede solo le cose dei propri amici quindi di gente che la pensa come lui siamo tutti coinvolti dentro queste reti questi giardini dorati dove stiamo tra i nostri amici e la pensiamo tutti uguale non vediamo non siamo esposti alle altre notizie mentre invece leggendo un giornale vedono tante opinioni il sole 24 ore Stefano Salis sicuramente può confermarlo pubblica più opinioni e quindi sicuramente uno è esposto a più opinioni di destra e di sinistra o di esteri piuttosto che di economia e quindi questo è il bello di un giornale che offre tante cose su internet c'è tutto però volendo e la gente informata alfabetizzata che sa usare internet è in grado l'elite è in grado tranquillamente di cavarsela benissimo il problema è l'analfabetismo il problema è che in Italia metà del paese ancora non è connesso c'è un divario digitale spaventoso tutti questi sono problemi con cui vi lascio interrogativi con cui vi lascio e chiedo a Vittorio Meloni di trarre le fila e di fare il suo commento finale grazie sì beh sono domande cui diciamo il tempo il poco tempo a disposizione non permette di dare risposte neanche semplificatorie non c'è dubbio che io ne parlo brevemente nel libro vedo anche un distacco diciamo dalla base organica per esempio in particolare con riferimento ai giornali del ceto medio non ceto medio che è stato che è sprofondato in una crisi in parte reale in parte di autopercezione e che prima si sentiva attratto diciamo così dall'establishment di cui i giornali sono sempre stati l'espressione che oggi li guarda con distanza quasi con ostilità e quindi da questa rottura di un patto che era in qualche modo nato nel pieno dello sviluppo economico che aveva portato crescenti a aree del paese non solo del nostro dentro l'area del benessere delle possibilità si è interrotto e anche interrotto un legame emotivo un legame di credibilità con i giornali poi ci sono fenomeni più importanti e più massivi che riguardano il ritorno del pensiero magico che è stato un prodotto molto importante del sistema televisivo cioè la propagazione di una visione del mondo basata sull'irrazionale che poi nel mondo come dice tra l'altro un esperto dell'ONU che cito sommariamente nel mondo del digitale si è iper amplificato cioè l'idea che c'è dietro qualcosa ecco quando noi sentiamo la frase c'è dietro qualcosa sta entrando in campo la magia e questo sta avvenendo su una scala molto molto ampia lo vediamo a proposito dei vaccini lo vediamo a proposito e non so dell'ultima di cui ho discorso con mio figlio che è questo fenomeno del tutto falso totalmente fake e già uscito due anni fa di Blue Whale questa specie di associazione misteriosa che spinge l'adolescente al suicidio che non esiste che era già stata trattata ma rispettando un'antica legge della stampa non c'è nessuna buona notizia che non meriti di essere pubblicata almeno una seconda volta in questo caso era una notizia falsa ma lo dico perché noi non dobbiamo dimenticare che c'erano delle agenzie di mediazione molto importante tra la cultura e l'informazione e il resto del mondo il venire meno di questo luogo di mediazione che filtrava moltissimo ha lasciato che diciamo il mondo ritornasse alle origini tornasse al mundus a quello squarcio che si crea tra realtà e mondo ultraterreno nel quale dal quale noi siamo anche psicologicamente diciamo così molto attratti se non abbiamo gli strumenti per difenderci da questo mundus rischiamo di confonderlo con il reale ecco internet sta molto lavorando su quei internet che come diceva giustamente Daniele è una grande piattaforma non è in sé il mezzo ma diciamo il recipiente di contenitore di tutti i mezzi porta lì allora c'è una reazione è una reazione anche molto così decisa non avviene forse ancora da noi con la stessa forza di evidenza però io sono stato negli Stati Uniti proprio nel momento in cui il New York Times lanciava la sua campagna sulla verità ecco pensate che il New York Times ha deciso che sarà tutto digitale ha deciso che non avrà pubblicità dal traffico digitale e ha guadagnato 267.000 lettori in un solo trimestre per effetto della presidenza Trump cioè che ha prodotto evidentemente una reazione uguale e contraria nell'opinione pubblica beneficio che ha toccato altre testate come il Washington Post più volte citato quindi c'è una reazione e ne cito una tra tutte che mi sembra diciamo l'epitaffio la formula più azzeccata per dare l'idea insieme della gravità e della profondità del momento che è la scelta fatta per l'appunto da Washington Post che ha cambiato il motto della sua testata e ne ha scelto uno che andava sarebbe stato perfetto per la Grecia combattiva dei tempi di Pericle che dice la democrazia muore nell'oscurità questo è il motto del Washington Post il che vuol dire che un grande interprete dei nostri tempi l'organo di stampa che ha provocato la caduta di uno dei famosi dei più famosi presidenti della storia degli Stati Uniti d'America con il Watergate Richard Nixon è consapevole della spartiacque di fronte al quale è l'informazione però ripeto c'è un tema che io tratto a lungo nel breve libro perché detto così sembra che io abbia condensato in 600 700 pagine sono 140 quindi è di più agile lettura però tocco molto il tema dei ricavi pubblicitari della fonte primaria della sostenibilità economica delle testate che sono si stanno trasferendo armi e bagagli altrove e questo più ancora della graduale perdita di lettori e più ancora della graduale trasformazione delle audience minaccia la sostenibilità dei giornali perché buona parte del loro conto economico viene da lì e se se ne andrà del tutto bisognerà fare come stanno facendo alcuni editori tra mille fatiche e difficoltà inventare dei modelli di business che non hanno bisogno della pubblicità una sfida naturalmente tutta ancora da definire grazie grazie qualcuno aveva delle domande veloci se no vi dobbiamo purtroppo salutare perché ci stanno facendo dei segni terribili vi vediamo se mai è riuscita grazie a tutti grazie a tutti grazie a tutti